Il piacere della qualità, la gioia del prezzo. Moretti Compact è una scelta di vita per i vostri bambini. Una scelta di materiali ecologici certificati e solide strutture per un ambiente sano e sicuro. Una scelta di fantasia con i tantissimi colori realizzati con vernici all'acqua. I negozi La Cameretta sono centri specializzati che concentrano la qualità dei prodotti e la professionalità di personale attento e capace esclusivamente nella progettazione di sole camerette per bambini e ragazzi. Le nostre redattrici vi guideranno con esperienza, professionalità e cortesia nella scelta della soluzione giusta e personalizzata della vostra cameretta, elaborando per voi soluzioni computerizzate tridimensionali ed offrendovi da subito un preventivo gratuito. Grazie a tutti!